Il Covid deve essere l'occasione per potenziare la sanità. La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, è intervenuta questa mattina a Torre del Greco in occasione del Consiglio comunale monotematico sull'ospedale Marisca. L'idea di un Consiglio monotematico in cui venissero coinvolti anche altri livelli istituzionali come noi consiglieri regionali è la strada giusta perché intorno a tematiche quali il diritto alla salute di un bacino di un milione di abitanti, qual è quello dell'As Napoli 3 Sud, io credo che non esistano steccati politici che dobbiamo unire le forze. Su questo territorio purtroppo c'era una carenza strutturale anche precedente al Covid. Su circa 2.500 posti eletto programmati la metà sono all'interno del privato, in cliniche private spesso piccole, prive di pronto soccorso e anche tutti i restanti 1.250 non sono stati realmente attivati, quindi capite come lo smantellamento dell'ospedale Marisca diventa ancora più grave in un contesto di carenza dell'offerta sanitaria dove qui nessun ospedale può rispondere a ictus, infarti e trauma, i cittadini devono recarsi per forza a Napoli dove gli ospedali scoppiano di Covid. Il Covid deve essere l'occasione per potenziare, purtroppo invece si sono chiusi sei posti letto, disattivati sei posti letto di terapia intensiva, il pronto soccorso è chiuso, stiamo aspettando le terapie subintensive che saranno pronte in estate, così dicono quando probabilmente l'emergenza sarà scemata. Dobbiamo fare squadra, al di là degli steccati politici, solo un'azione di pressing può portare al raggiungimento di risultati concreti. L'ospedale di Torre del Greco deve tornare nella rete dell'emergenza e l'ASL deve dare risposte ad istituzioni e cittadini. Bisogna tenere alta l'attenzione perché Torre del Greco, il Maresca deve tornare a essere uno SPOC nella rete dell'emergenza, va riattivato il pronto soccorso, qui c'è un servizio di emergenza psichiatrica, la legge prevede che ci debba essere il pronto soccorso, vanno aperte le degenze di gastroenterologia che è un'eccellenza di questo territorio, le degenze oncologiche, va utilizzato un presidio preziosissimo, lo ripeto, non soltanto per la città di Torre del Greco ma per tutta l'ASL Napoli 3 Sud. Questa mattina grande assente proprio l'ASL. Guardi purtroppo anche in Commissione Sanità da tempo noi non abbiamo la possibilità di interloquire con i vertici delle diverse ASL inclusa la Napoli 3, capisco che il momento è grave, che i direttori generali sono alle prese con la terza ondata quindi lo posso anche giustificare ma io auspico che ci debbano, non ci possano, ci debbano essere momenti di confronto, vanno date risposte ai rappresentanti istituzionali come quelli appunto che oggi erano presenti in Consiglio Comunale ma vanno date risposte soprattutto ai cittadini. Un momento complesso nella gestione dell'emergenza sanitaria ma non si muore solo di Covid. Esattamente, è stato questo il senso del mio intervento odierno. Nella proposta originaria che io avevo trasmesso al direttore dell'ASL c'è la quella di salvaguardare Torre del Greco e il Maresca dal Covid. Se si è scelto di fare Bosco Trecase e Ospedale Covid si potevano trasferire le specialità disattivate a Bosco Trecase con il relativo personale qui al Maresca facendone un ospedale Covid free che poteva continuare ad assistere i pazienti che purtroppo oggi si ammalano continuano ad ammalarsi di tutte le altre patologie antecedenti al Covid. Invece abbiamo liste d'attese enormi, pazienti con patologie anche gravi, penso a quelli oncologici che non stanno ricevendo l'assistenza dovuta e presidi sanitari pressoché dismessi. Grazie a tutti!